Siamo giunti al mese di novembre con molte scadenze riguardanti il personale della scuola, gli studenti e le istituzioni scolastiche. Per la prima settimana del mese da segnare in agenda c'è la scadenza dell'8 novembre, termine entro il quale è possibile presentare tramite polis il modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche per le graduatorie di istituto dei docenti. Le funzioni saranno disponibili fino alle ore 14. L'8 novembre è anche la scadenza per le scuole superiori per inviare le richieste per aderire alla sperimentazione per gli studenti atleti di alto livello, proposta anche per l'anno scolastico 2019-2020. Infine entro il 10 novembre gli studenti tra i 15 e i 18 anni possono presentare domanda per studiare all'estero con intercultura. A tal fine si può anche utilizzare una borsa di studio messa a disposizione dall'Ips con il programma ITACA. Arrivederci alla prossima settimana!